Ciao a tutti, io sono Skoll, io sono Panzer. Oggi presenteremo alcune ASG Cortez. Benissimo, sappiamo che quindi le pistole si suddividono, possono suddividere in due grandi categorie, gas e CO2. Che differenza abbiamo, caro Skoll? Allora, le differenze principali sono che le pistole a CO2 hanno il funzionamento tramite bomboletta di 12 grammi, come queste qua inserite nella maggior parte dei modelli, nel caricatore. Ha molta spinta, una potenza appena superiore rispetto al gas. Gli unici aspetti negativi delle bombolette di CO2 sono che la sostituzione è un pochino più lunga e macchinosa, ovvero in molti modelli devo tramite brugola allentare il grano, sostituire la bomboletta con una nuova, quella vecchia comunque me la devo tenere addosso. Non ha la stessa durata del gas, ovviamente. Un altro aspetto purtroppo negativo della CO2 è che appunto le bombolette di CO2, come questa da 12 grammi, non sono autolubrificanti. Il che vuol dire che dopo diverso tempo che comunque io utilizzo una pistola a CO2, devo per forza di cose, per salvaguardare lo stato interno, devo per forza metterci una bomboletta da 12 grammi lubrificante, che funziona nella stessa maniera di una bomboletta normale, solo che appunto mi pulisce le valvole interne, gli OR e mi dà una lubrificatina interna. Quindi dobbiamo dare un appunto alla manutenzione. Alla manutenzione, eh. Della S-Sister. Esatto. Invece spostandoci sulle, invece le pistole a gas. Le pistole a gas vengono caricate tramite una bombola di gas, questa. Semplicemente la prendo qua, con il mio caricatore, do una agitata e inserisco l'incirca 15 secondi e poi il caricatore è carico del tutto. A differenza del CO2 cosa mi può dare il gas? Allora, il gas, a differenza del CO2, può appunto lubrificare tutta la parte interna. Infatti è sempre consigliato, nelle pistole a gas, di mantenere all'interno del caricatore sempre una piccola quantità di gas, appunto perché è lubrificante. Quando è qualora invece è sconsigliato, con le bombolette di CO2, che vanno sempre rimosse. Ha qualche problema con le temperature? Il problema grosso del gas, purtroppo, è sempre stato questo. Ovvero, quando le temperature iniziano ad essere inferiori a 5 gradi, il gas non lavora bene come farebbe a temperature più elevate. Io posso comunque prendere dei gas migliori, che lavorano a temperature più basse. Ad esempio, questo gas lavora fino a 10 gradi. Ce ne sono alcuni che lavorano anche fino a 5 gradi. Perfetto, comunque riusciamo ad avere anche una scelta riguardo il gas per andare incontro a ogni esigenza e temperatura, ovviamente, nei limiti. Esattamente. Possiamo poi suddividere queste pistole in altre due categorie, più o meno, dalle linee più classiche, invece quelle un po' più elaborate, se vogliamo puoi chiamarle anche un po' tamarre. Sono semplicemente caratteristiche estetiche. Andiamo ad esempio a prendere. Questa 1911 qua. Molto semplice, lineare, non ha nulla di particolare. Questa è una pistola molto classica. Se andiamo a paragonarla magari con... Anch'essa si tratta di una 1911, solo che le differenze sono abissali. Andiamo da una linea un po' più pulita e classica, a una invece... Una un po' più impegnativa. Quindi abbiamo già il grilletto scheletrito, tagli sul carrello, slitta weaver. Questa è molto, molto più particolare. Semplicemente si tratta di estetica. Io qua vedo parecchie pistole, sono otto pistole. Ti vado a chiedere un po', non troppo nello specifico, ma una panoramica di queste pistole, se riesci a far capire qua tutti cosa abbiamo qua da far vedere. Ovviamente sono tutte blow bag scarrellanti, assolutamente. Che cosa significa? Una pistola scarrellante significa che ogni volta che io vado ad azionare il grilletto per sparare, tutto il carrello esegue lo stesso movimento di quello che farebbe un'arma vera. Ovviamente con molto meno rigido, se tratta di CO2 e palline di plastica. Partendo dalla mia destra abbiamo M9A1, versione americana, con carrellero nero e castello verde a CO2. Abbiamo qui la 1911 che abbiamo visto poco fa, sempre a CO2. Questa qui invece, questa pistola, si tratta di una SIG Sauer P226, molto bella, molto realistica, a CO2, sempre marcatata a KJV. Particolare perché, come nell'arma vera, ha la batticane, appunto per abbattere il cane. Abbiamo subito questa qua, un'altra 1911, con l'aspetto un pochino più particolare. Tutto, tra virgolette, forellato. Anch'essa scarrellata, adesso non rimane bloccata perché non c'è un caricatore dentro. Un bel modello, questa qua invece non è KJV ma è marcata a WER. Sempre comunque un'ottima marca per le pistole. Ed è a gas. Questa qua, esatto, questa qui è a gas. Questa in particolare, sempre 1911, con una sorta di grip anti-civo. Ottimo funzionamento, ottimo scatto, ottima presa, dammi conferma. Molto carina anche questa, comunque, ragazzi, sono veramente, come peso e come aspetto estetico, molto simili e realistiche. Sono veramente, molto, molto ben fatte, molto bene. La penultima, un M9A1 a gas, molto simile al primo modello che abbiamo visto, semplicemente che questa qui è di colorazione tutta nera. Non è nient'altro di speciale, sempre scarrellante. Molto simile alla prima che abbiamo visto. Passiamo ora a un modello un pochino più particolare, che è questo qua. Questa pistola qua, quindi un I-K, con una sorta di pedra e grip anti-civolo sul castello della pistola. Questa pistola funziona sia a gas che a CO2, ambivalente. Questa pellante, anche lei ben fatta, molto solida, un buon grip, una buona impugnatura. Quindi in questo caso abbiamo una pistola che può essere utilizzata, prima avevamo diviso in gas e CO2, ma possiamo utilizzarla in entrambi i casi, quindi in base alle condizioni del tempo, in base alla preferenza comunque della persona che va a utilizzarla, cambiando semplicemente il caricatore. Esatto, solo il caricatore. Possiamo quindi scegliere il propellente più adatto alla situazione. Esattamente. Ricordo inoltre che tutte le pistole presentate oggi saranno disponibili sul nostro sito, raffosairsoft.it. Per tutte le informazioni che desiderate potete scrivere al numero di WhatsApp qui sopra e alla mail qui sotto. Per oggi da Skoll e Panzer è tutto. E adesso andiamo a casa, dai, non mi è co... Alla prossima! Alla prossima!